Veniamo ora a degli esempi di post-produzione possibili con Adobe Premiere Pro. Importo diverse clip all'interno della mia timeline e quello che voglio fare è realizzare uno split screen o più volgarmente detto riquadri. Beh, prima di tutto io nella mia timeline andrò a cancellare quelli che sono gli elementi che non mi interessano e metterò su diverse tracce video diverse clip. Ora, le mie clip hanno differenti grandezze, tutte quante, quindi potrò andare tutte quante a scalarle per renderle omogenee. Fatto ciò posso decidere di andare a costruire quelli che sono quello che è il mio split screen andando a ritagliare parti delle immagini e a spostarle. C'è un effetto in particolare che troviamo all'interno del nostro pannello contro le effetti che è l'effetto ritaglia. Grazie a questo effetto noi possiamo andare a realizzare dei tagli in percentuale delle nostre immagini. Vi mostro un esempio. Applico l'effetto alla clip che ho sopra sull'ultima traccia e avrò la possibilità, grazie a questo effetto, di tagliare una percentuale della mia immagine. E unendo questo concetto io posso tranquillamente andare a spostare la mia immagine e andare a tagliare una determinata percentuale dal basso. Così ho creato il mio primo ritaglio, quindi il mio primo riquadro. Prenderò la seconda clip, la renderò un pochino più piccola, la sposterò nello spazio e applicando l'effetto ritaglio potrò andare a ritagliare un pochino sulla destra per permettere poi di inserire un'altra immagine qui e un pochino in alto così da far comparire un leggero righino e far percepire quindi il collage delle immagini. Ora prenderò la terza immagine. Andrò a spostare anche questa nella posizione che più preferisco, la zoom un pochino, applico anche ad essa l'effetto ritaglia e andrò a ritagliare cercando di creare un righino quanto più simile possibile agli altri. Perfetto, così facendo con l'utilizzo di pochi click ed un solo effetto che è l'effetto ritaglia abbiamo creato una composizione, un collage che può essere di clip video, può essere composto di fotografie o di altri contenuti.